Buone notizie per il sistema sanitario abruzzese. Dopo la preoccupazione dei mesi scorsi per i tagli che avrebbero afflitto i pazienti che necessitano di cure sociosanitarie con conseguente impegno economico da parte delle loro famiglie, oggi l'assessore alla sanità Paolucci annuncia che grazie all'accantonamento di fondi, dovuto alle politiche di rientro dal debito accumulato dalla regione, nuovi soldi saranno disponibili per tutto il comparto. Lì investiremo tutti sul territorio, presso le quattro province e dunque nelle quattro asle e hanno a che fare con spese molto importanti per la comunità abruzzese, 40 milioni di euro per la residenzialità, 10 milioni di euro per la rete di emergenza urgenza, per un investimento capillare in ambulanze automediche e personale, 10 milioni di euro per il fascicolo sanitario e elettronico, 10 milioni di euro ancora per le case della salute e altri 10 sempre per le strutture sanitarie, per un ammontare che si aggirà almeno intorno ai 20 milioni di euro. Sono oltre 100 milioni di euro che a mio avviso rappresentano un'iniezione molto importante di fiducia per la copertura aggiuntiva di tanti importanti prestazioni territoriali. Implementazione di servizi come quello telematico che scaccerà via, cartegge pratiche riducendo anche i costi e poi sostegno per quei servizi che fino a poco tempo fa preoccupavano le famiglie con la paventata compartecipazione della spesa. Per il 2015 dunque nessun rischio come qualcuno temeva, si tratta di oltre 100 milioni di euro. Ma intanto noi riusciremo a coprire sulle prestazioni socio-sanitarie molto di più di quanto si è fatto in passato e il limite principale delle azioni della scorsa legislatura erano quelle che a seguito della riconversione vi erano dei tagli in relazione alle prestazioni per acuti e dunque ospedaliere ma non vi erano poi gli opportuni investimenti in sanità territoriale e socio-sanitaria. Noi ci apprestiamo a recuperare questo gap e dunque a portare in modo capillare in questa regione tanti distretti sanitari e socio-sanitari che saranno in grado di assistere la popolazione della comunità abruzzese anche più tra virgolette da vicino.